Ciao a tutti amici e bentrovati, amici di Lupo Alberto Music Mania. Vi racconterò la storia, come è nato Lupo Alberto, come è nata la Music Mania. Era, se non ricordo male, il 1986, quando, mentre stavo andando in treno verso Padova, anzi verso Terme Eugane, Abano, Montegrotto, incontrai sulla Litturina, allora si chiamava così, aveva due vagoni, la Litturina della linea Legnago-Cereno-Garamantova, incontrai Umberto Pollin. Chi era Umberto Pollin? Umberto Pollin era uno speaker eccezionale di radio a testina, conduceva diversi programmi, uno tra i quali era un contenitore che si chiamava Mixer, era qualcosa di fantastico, qualcosa di avanguardistico per i tempi. Attenzione, stiamo parlando dei primi anni Ottanta, quindi era molto avanti. E mi ricordo che gli dissi, senti Umberto, come stai, come non stai, complimenti per la trasmissione, mi piacerebbe venire a provare, mi piacerebbe trasmettere in radio, e lui mi dice, beh, che problemi ci sono, vieni, hai una bella voce, ti piace la musica? Io gli dico, sì, certo, mi piace la musica. Ecco, mi rimase in mente una cosa che mi fece sorridere e che tuttora oggi mi fa sorridere, mi disse, guarda Alberto, non ci vivrai, praticamente mi fece capire che soldi non ce n'erano, però ti divertirai tantissimo, però imparerai tantissime cose sulla musica, sulla tecnica, sulla radiantica, su tutto quello che riguardava il mondo delle radio private di quel periodo. In effetti quello era il periodo delle radio private, delle radio libere. Ci fu anche, chi ci scrisse una canzone, se una radio è libera, è libera veramente, quello si chiamava Eugenio Finardi. Così, presi appuntamento, mi recai in questa stazione radio, che poi tra l'altro era bellissima per quei tempi, perché era in via Principe Umberto ad Este, si salivano le scale, avevo il cuore che mi batteva fortissimo, entrai, c'era un'anticamera, un ufficio grande, dove c'era una segretaria, c'era un'altra segretaria, che poi scoprì fosse la pubblicitaria, diciamo quella che si occupava principalmente della raccolta pubblicitaria. Le radio vivevano solamente con la raccolta pubblicitaria a quei tempi. e la stanza di registrazione, dove dentro c'era un ragazzo che stava trasmettendo, non mi ricordo se fosse Fabio De Magistris o se fosse qualcun altro, non importa. Mi fecero accomodare in un'altra saletta, che era la sala di registrazione, e mi dissero, guarda, là ci sono i dischi, prenditi quello che vuoi, legge una cassetta, registra, fai mezz'oretta di registrazione, e poi lasciacela e ti ascolteremo e ti faremo sapere. E così feci, andai, presi, trovai dei dischi, me li tirai fuori, c'era sempre Umberto che mi supervisionava, perché io non ero abituato con quella tecnologia, c'erano dei piatti, c'era il mixer, che io non avevo mai preso in mano, o se non... ma no, non ho mai preso in mano, non sapevo neanche cosa fosse, e mi diede i primi rudimenti di queste cose, feci la mia mezz'oretta di trasmissione, la registrai in cassetta, la diedi a Umberto, lo salutai, salutai tutto e dice fatemi sapere. Fatemi sapere, non era proprio una cosa così facile, perché a quei tempi non esistevano i cellulari, e tra l'altro io in quei tempi studiavo presso il seminario minore di Padova, veniva a casa una volta alla settimana, una volta ogni 15 giorni, per cui immaginatevi, ah sì, guarda, non ti preoccupare, la settimana prossima, sabato prossimo, quando torna, ti faremo sapere. Io quella settimana l'ho fatta in una maniera terribile, e non vedevo l'ora che mi dicessero sì o no, anche poi tra l'altro per me era un successo lo stesso, perché gli avrei chiesto quella cassettina, e gliel'avrei chiesta sicuramente, perché sarebbe stato un cimelio da tenere, in effetti da qualche parte ci deve essere e ce l'ho ancora. Passo a un sabato, anzi una settimana fra latino, greco, matematica, fisica, latino, greco, greco, latino, greco, italiano, finalmente arrivò il sabato, si prendeva il treno, si correva, si prendeva l'autobus, la linea autobus, la linea M, quella di Montegrotto, si arrivava a Ternogane a Montegrotto, mi fermai invece che nel paesello di Ospedaletto, direttamente a Este, da Este attraversai la strada, la statale, la stazione, e andai a Radio Testina. Lì trovai la ragazza, quella della pubblicità, quella che si occupava principalmente della pubblicità, si chiamava Daria, e mi disse, guarda, abbiamo sentito la tua cassetta e compatibilmente con il tuo orario vorremmo che tu facessi una trasmissione. E io ho detto, mamma mia, ma che bello, ma così da solo, sì, ha detto, guarda, ci piace ed è una cosa che potrebbe andare. Non vi dico l'emozione, non vi dico la gioia, non vi dico la soddisfazione che io ebbi in quei bellissimi momenti. Però mi disse, adesso dobbiamo trovare un nome. E gli dico, guarda, io non so come Alberto Balduin, tra l'altro, come ho appena detto, io studiavo in seminario, seminario minore, non è che potevo far sentire tanto il mio nome, la mia voce e quant'altro. E mi dice, tu ti chiamerai Lupo Alberto. E io gli dissi, sì, Lupo Alberto, mi piace. E il programma si chiamerà Lupo Alberto Music Mania. Ho detto, questo è proprio quello che fa per me. E fu così che nel 1986 nacque Lupo Alberto Music Mania.